Il mio nome è Cecilia Marzi, sono un architetto, sono il progettista di un progetto che è stato scelto per una menzione del premio dell'associazione BioecoLab. Sono molto contenta che il mio progetto sia stato scelto e volevo ringraziare sia il mio team di progettazione degli impiantisti perché credo che questa menzione sia stata possibile grazie alla collaborazione del team di impiantisti e anche alla committenza illuminata che avendo una particolare propensione e sensibilità per queste tematiche ci ha indirizzato verso la progettazione di questa villetta unifamiliare che si trova in provincia di Marano.